ciao a tutti oggi è arrivato il momento di realizzare il tutorial di questo ciondolo appunto il ciondolo explorer realizzato in collaborazione con semplici bijoux questa è la variante dedicata a danny londonnerry poi ci sono altre quattro varianti di colore quindi cinque in tutto ideate da rené e che trovate sul sito semplici bijoux vi lascerò sotto i link nell'info box dovrebbero essere ancora ci sarà sicuramente qualcosa ancora di disponibile poi comunque vi faccio vedere bene il ciondolo eccolo qui qui c'è il lavoro di incastonatura della goccia che misura 25 per 18 mm e poi come avete visto i sostegni sul retro che rendono il ciondolo molto solido poi comunque nel kit c'è la catena che appunto poi voi regolerete della lunghezza che più vi è comoda e io ovviamente spero che vi piaccia vi lascio adesso l'elenco dei materiali e nulla vi ricordo che appunto le slide con le altre varianti di colore saranno a fine video e link sotto nell'info box grazie mille per l'attenzione a tra poco per realizzare il ciondolo explorer vi servirà innanzitutto un ago numero 11 della pony poi il filo di nylon un filamento da 0 20 mm che ora trovate sul sito semplici bijoux vi metto sotto il link nell'info box nel caso in cui non riusciate a far praticamente passare il filo che effettivamente un po spesso ma vi dico sempre che io ve lo consiglio ne vale la pena però se non riuscite a farlo passare nella cruna del lago numero 11 numero 12 io vi spiego come fare o meglio come faccio io nel video degli orecchini e lianto che trovate qui sul canale intorno al minuto 6 vi faccio vedere il mio metodo ok poi per il resto ovviamente vi serviranno tutti gli altri materiali che sono contenuti nel kit ma li guardiamo in particolare innanzitutto serve un gancio per il ciondolo e questo è quello in stile tibetano poi vi serviranno degli anellini e una chiusura poi vi servirà una catenella una catena questa è diamantata in finitura aurorosa ed è di alluminio ovviamente della lunghezza desiderata poi vi servirà soprattutto una goccia di cristallo che misura 25 x 18 mm e questa è in color emerald poi vi serviranno 14 mezzi cristalli da 3 mm poi scusate questi sono nel colore suede gold fern poi vi serviranno 10 mini scevron e queste sono nel colore gold shine dark olive poi vi serviranno 13 kite e queste sono nel colore chalke green luster poi vi serviranno le rocai 8 0 e queste sono il colore matt duracot galvanize champagne le rocai 11 0 e queste sono il colore duracot galvanize dark berry e poi anche le 15 0 che sono nel colore sempre duracot galvanize dark berry a tra poco per effettuare l'incastonatura della nostra goccia dobbiamo mettere sul lago 33 rocai 8 0 portare tutto quasi alla fine del filo e poi ovviamente ripassare nelle perline congiungere i capi del filo fare due nodi nascondere il capo corto e poi con lago invece andare nella direzione opposta per allontanarci un po dal nodo quindi attraversando alcune rocai facciamo questo ci rivediamo tra pochissimo fatto questo ci ritroveremo così mettiamo sul lago una rocai 8 0 e ci andiamo a inserire per questa volta nella rocai che viene subito dopo senza saltare appunto nessuna rocai ci inseriamo nella rocai che viene subito dopo tiriamo il filo tiriamo bene il filo e la rocai si andrà a inserire in questo modo creando la punta della nostra goccia per il resto invece della lavorazione dobbiamo semplicemente fare un giro a peyote quindi mettiamo sul lago un'altra rocai 8 0 e ci inseriamo non nella rocai successiva ma in quella che viene dopo tiriamo il filo e ci ritroveremo così e poi dobbiamo semplicemente proseguire mettiamo un'altra rocai 8 0 e ci andiamo a inserire nella rocai non quella che viene subito dopo ma in quella successiva stiamo quindi effettuando quello che praticamente è il terzo giro di peyote perché l'infilata iniziale vale come due giri facciamo questa operazione per tutto il giro e ci rivediamo tra un po' terminiamo insieme il giro infilando questa rocai a punto 8 0 qui nella rocai che precede quella della punta e tiriamo il filo poi ci inseriamo anche nella rocai di punta vedete così abbiamo finito il giro di peyote poi ci inseriamo nella rocai di punta e qui dobbiamo semplicemente fare quello che sarà il quarto giro di peyote infatti dobbiamo prendere un'altra rocai 8 0 e andarci a inserire nella rocai che sporge successiva in questo caso è molto semplice perché appunto come vedete queste rocai sporgono come dicevo tiriamo il filo e proseguiamo aggiungendo una rocai 8 0 e andandoci a inserire nella rocai che sporge tiriamo il filo ci ritroviamo così proseguiamo per tutto il giro e ci rivediamo a giro terminato in realtà terminiamo insieme il giro inserendo l'ultima 8 0 e andandoci a inserire nella rocai di punta questa qui cioè che ci siamo attraversiamo anche la rocai successiva tiriamo il filo abbiamo così terminato in giri diciamo di peyote con le 8 0 dobbiamo tirare un po il filo perché adesso si inizierà a stringere ovviamente l'incassonatura attorno alla goccia però non la mettiamo ancora perché dobbiamo fare dei giri di peyote con le 11 0 infatti prendiamo una 11 0 e ci andiamo a inserire non nella rocai che viene dopo ma in quella successiva che in effetti sporge un po e tiriamo il filo poi prendiamo un'altra rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nella rocai che sporge un po successiva quindi non in questa che viene dopo ma in quella ancora successiva e tiriamo il filo adesso dobbiamo avere un po di pazienza perché in realtà dovremo fare 5 g di peyote con le 11 0 però ci vediamo tra un po perché ci sono poi dei dettagli da guardare intanto terminate il giro a peyote con le 11 a tra poco terminiamo insieme il giro perché siamo arrivati in corrispondenza della punta diciamo della nostra goccia e quindi prendiamo sempre comunque una rocai 11 0 e ci andiamo a inserire non nella rocai che segue ma in quella successiva e però attraversiamo anche la rocai 11 0 in maniera tale da fare lo step up quindi di passare al livello successivo del peyote tiriamo il filo siamo quindi pronti per iniziare il nostro secondo giro di peyote con le 11 0 mettiamo sull'ago una rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nella rocai 11 0 successiva tiriamo il filo ci ritroveremo così ovviamente lo facciamo per tutto il giro ma quando arriviamo alla rocai vedete quella che precede quella di punta tanto ci rivediamo tra poco per fare insieme quel passaggio a tra poco terminiamo insieme questo giro di peyote ma solo per osservare che appunto in corrispondenza della punta della goccia dobbiamo comunque mettere una rocai e inserirci appunto nella rocai questa di punta e poi di nuovo mettere un'altra rocai 11 0 eccola e andarci a inserire sempre in questa rocai che era la prima del primo giro di peyote con le 11 e poi vedete passare anche attraverso quest'altra rocai che è la prima che abbiamo inserito quindi tiriamo il filo e abbiamo fatto quindi lo step up vediamo come vengono a disporsi le rocai si dispongono così tiriamo bene il filo quindi siamo pronti per partire con il terzo giro di peyote però inseriamo la goccia con la parte brillante verso il basso e facendo ovviamente andare a coincidere la punta della goccia con la punta del nostro lavoro di incastonatura ecco qui adesso tiriamo il filo e possiamo appunto partire con il terzo giro di peyote con le 11 0 prendiamo una 11 0 ci andiamo a inserire nella rocai 11 0 che sporge quindi ovviamente non questa che viene subito dopo ma questa successiva tiriamo il filo ci ritroveremo così non importa che ci sono appunto questi spazi vedrete che poi tutto si sistema prendiamo un'altra rocai 11 0 ci andiamo a inserire non in questa rocai ma in quella che segue e che sporge e lo facciamo per tutto il giro ma sempre ci vediamo nel momento in cui arriviamo alla punta però guardate i tre giri di peyote che abbiamo iniziato 1 2 3 1 2 3 questi con le 11 0 e così dobbiamo proseguire come vi dicevo in corrispondenza vedete della rocai che si trova a destra di quella centrale delle due centrali vedete questa è l'auto 0 questa è la 11 quando arriviamo in questo punto non aggiungiamo una rocai ma saltiamo questa 11 0 di punta e andiamo a inserirci direttamente in quest'altra rocai che troviamo sulla sinistra tiriamo il filo e ci ritroveremo così poi dobbiamo prendere una rocai 11 0 e andarci a inserire vedete in questa rocai che è la rocai da cui eravamo partiti diciamo del secondo giro di peyote e poi passiamo nella prima invece rocai inserita per il terzo giro di peyote perché dobbiamo fare lo step up così siamo pronti per il quarto giro di peyote vedete che si sono disposte in questo modo le tre rocai 11 0 quindi i tre giri adesso prendiamo una rocai 11 0 ci andiamo a inserire non nella rocai che segue ma in quella successiva che sporge un po' tiriamo il filo e avremo così iniziato il quarto giro di peyote con le 11 0 infatti vedete qui 1 2 3 4 inseriamo gli altri rocai negli spazi e sempre quando arriviamo nei pressi della punta ci rivediamo qui per farlo insieme ecco vedete con questo quarto giro adesso arriviamo sempre in prossimità delle rocai della punta allora qui abbiamo queste tre vedete tutte insieme che sono quella di punta e quelle due che abbiamo avvicinato nel giro precedente adesso ci troviamo ad uscire da questo punto e mettiamo questa volta una rocai e sempre 11 0 e ci andiamo a inserire ovviamente lasciando da parte queste tre in questa rocai che troviamo qui a sinistra perché dobbiamo comunque stringere la goccia insomma e quindi dobbiamo fare questi aggiustamenti ovviamente in corrispondenza della punta rispetto al normale peyote perché stiamo incastonando una goccia teniamo sempre sotto controllo qui la goccia sotto quindi facendo aderire bene l'incastonatura adesso a questo punto dobbiamo mettere anche un'altra rocai 11 0 e andarci a inserire qui vedete in questo punto perché questa è l'inizio proprio quella da cui siamo partiti per il terzo giro e poi adesso però dobbiamo intanto inserirci qua ma poi anche nella successiva che è la prima del quarto giro datevi un secondo ecco così tiriamo il filo vediamo come si dispongono le rocai così vedete qui abbiamo la punta e poi questa che abbiamo appena aggiunto ma adesso dobbiamo passare anche attraverso questa rocai ripeto la prima del quarto giro di peyote con le 11 per fare lo step up tiriamo il filo per bene e ci ritroveremo così adesso prendiamo un'altra rocai per l'ultimo giro con le 11 0 e prendiamo appunto una rocai 11 0 e ci andiamo a inserire in questa rocai non in questa successiva ma in quella che viene dopo e che sporge un po' tiriamo il filo osserviamo le cinque vedete per questo primo step le cinque rocai 11 0 che si sono disposte così in fila e poi continuiamo a inserire una rocai negli spazi che vi facciamo proseguiamo questo giro di peyote sempre in corrispondenza della punta ci rivediamo ecco arrivati a questo punto come sempre diciamo a destra della punta abbiamo questa situazione qui dobbiamo lasciare da parte queste rocai che appunto formano la punta e aggiungiamo una rocai 11 0 ci andiamo a inserire nella rocai che si trova simmetricamente da questo lato questa qui a sinistra tiriamo il filo e poi noi dopo questo passaggio diciamo della punta intanto vediamo come veniamo a trovarci ci troveremo così dobbiamo poi in sé fare diciamo sempre lo step up quindi inserire l'ultima rocai di questo giro e andarci a inserire in questa rocai che appunto era quella dalla quale eravamo partiti per iniziare questo giro e poi ci inseriamo nella rocai che viene dopo che è la prima di questo quinto giro di peyote con le 11 tiriamo bene il filo quindi rocai si sistemeranno ecco qua dobbiamo sempre tener d'occhio anche il davanti della nostra incastonatura che magari tende a scendere un pochino qui sotto ma con i momenti in cui andiamo a cui a chiudere adesso con le 15 questa cosa non succederà si sistemerà tutto ecco qui in questo appunto sono i cinque giri di peyote con le 11 che possiamo osservare appunto vedete le cinque rocai sia da questo lato vengono disposti in fila sia da questo e adesso dobbiamo fare un giro con le 15 0 e infatti prendiamo una rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nella rocai che sporge successiva chiediamo il filo si sistemerà così poi prendiamo un'altra rocai 15 e ci andiamo a inserire nella rocai che sporge successiva poi prendiamo un'altra rocai 15 ci andiamo a inserire nella rocai che sporge successiva e poi adesso invece in queste rocai che seguono dobbiamo fare così cioè dobbiamo attraversare vedere intanto queste tre senza aggiungere nulla ne attraversiamo un'altra quindi quattro senza aggiungere nulla in tutto poi qui invece dobbiamo scusate attraversare anche questa quinta rocai 11 0 senza aggiungere nulla tiriamo il filo perché dobbiamo far aderire l'incastonatura alla goccia tiriamo il filo così e poi mettiamo le altre rocai 15 0 quindi una rocai 15 0 ci andiamo a inserire nella rocai 11 che abbiamo qui poi un'altra 15 0 e ci andiamo inserire nella rocai sempre che sporge successiva poi prendiamo un'altra rocai 15 0 e ci andiamo inserire nella rocai che sporge successiva poi un'altra rocai 15 0 e ci andiamo inserire nella rocai che sporge successiva però passiamo anche attraverso questa rocai centrale senza aggiungere niente e poi nella rocai che si trova a sinistra di quella centrale senza aggiungere nulla tiriamo bene il filo che si andrà a stringere quindi farà stringere le rocai in questo modo e poi dobbiamo però aggiungere un'ultima rocai 15 0 in questo punto che è il punto da cui siamo partiti e quindi quello sempre dello step up prendiamo una rocai 15 0 ci inseriamo in questo punto che è la rocai 11 da cui eravamo partiti tiriamo il filo vedete che adesso si chiarirà meglio tutta la situazione perché avremo sia da questa parte che da questa inserito 4 rocai 15 0 quindi 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 local 15 0 dall'altro lato ecco qui adesso dobbiamo tirare bene il filo ripassiamo in quest'ultimo passaggio in maniera da stringere bene in maniera tale da stringere bene e ci rivediamo perché poi dobbiamo ovviamente andare invece sul davanti a fare tutta la lavorazione del nostro ciondolo ecco qui la nostra goccia incastonata vi faccio vedere sul retro una volta che abbiamo fatto il giro di rinforzo si stringe davvero bene l'incastonatura e aderisce alla goccia ora cosa facciamo io sono ritornata al punto di partenza che sempre questo qui a sinistra diciamo del centro però questo punto l'operazione di ripasso l'abbiamo fatta possiamo anche risalire verso l'alto perché dobbiamo come vi dicevo andare sul bordo della goccia intanto attraversiamo queste rocai andiamo qui su nella punta della goccia ecco qui devo cambiare l'ago e ci andiamo inserire qui nella punta come vi dicevo nella rocai 80 che rappresenta la punta della nostra incastonatura a tra poco a questo punto mettiamo sull'ago 3 rocai 80 e ci andiamo inserire nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo ma da questo verso tiriamo il filo ci ritroveremo così ripassiamo di nuovo in queste rocai e ci vediamo tra pochissimo fatto questo ci troviamo ad uscire da questo punto e attraversiamo le prime tre rocai che ci troviamo qui a sinistra dell'incastonatura usciamo dalla terza rocai vedete questa rocai e sporge un pochino verso l'esterno è così in maniera alternata e noi sono queste rocai che dobbiamo considerare quelle che sporgono all'esterno per adesso a mettere diciamo andare ad aggiungere le nostre kite intanto usciamo dalla terza rocai 80 come vi dicevo e prendiamo una kite la mettiamo lo teniamo in questo modo ci andiamo a inserire in questo modo e avviciniamo al lavoro la kite ecco qui ci ritroveremo così e andiamo a mettere sul lago questa sequenza che vi faccio vedere tra pochissimo dobbiamo mettere sul lago vedete una rocai 15 4 rocai 11 e una rocai 15 cosa facciamo avviciniamo come vi dicevo al lavoro la kite ma nello stesso tempo ci andiamo a inserire sempre nello stesso foro della kite ma in questo verso tiriamo il filo e ci dobbiamo ritrovare in questo modo tiriamo il filo queste si andranno a disporre sulla punta della kite poi cosa facciamo vi avvicino un attimo tiriamo il filo poi attraversiamo solo la 15 0 questa ultima diciamo che si viene a trovare in questa posizione non importa che tutto si allontana ritiriamo il filo e poi ci andiamo a inserire proprio all'interno del foro di nuovo della kite facciamo una specie di inversione di di marcia questa la faremo sempre adesso nel momento in cui metteremo le kite anche se non con questa procedura perché va a cambiare poi per le kite successive ma tanto le faremo insieme tiriamo il filo quindi ripeto siamo usciti solo dalla 15 0 ma torniamo indietro e andiamo a inserirci nel foro della kite dobbiamo tirare avvicinare tutto al lavoro tirando qui le rocai e tiriamo così adesso vedete come ci veniamo a trovare ripeto abbiamo attraversato la 15 0 e poi siamo entrati nel foro della kite così si incastreranno le rocai io vado a prendere un'altra rocai 15 0 e mi vado a inserire ci andiamo a inserire nella rocai vedete questa auto 0 della quale eravamo partiti ma mentre qui ne usciamo vi faccio vedere bene dal lato sinistro faccio vedere bene magari mettendo a fuoco ecco che abbiamo il filo che esce dal lato sinistro noi andiamo a inserirci qui dal lato invece destro qui dalla destra dal lato destro e ci andiamo a inserire e attraversiamo tutte queste rocai queste tre rocai quindi la stessa rocai altre due che seguono per uscire da questa rocai che vi faccio vedere tra poco se l'operazione riesce in un colpo altrimenti la dobbiamo fare in due colpi infatti devo far così allora usciamo di qua intanto che questa è la rocai quella che sporge invece sull'incassonatura che non dobbiamo comunque considerare dobbiamo attraversarla e qui la situazione si andrà a sistemare in questo modo e noi attraversiamo anche l'altra rocai 8 0 che è quella che a noi interessa che quella che sporge diciamo verso l'esterno tiriamo il filo e ci ritroveremo così ecco in questo modo ci fermiamo un attimo arrivo subito come vi dicevo stiamo uscendo da questa rocai che poi anche la quinta se contiamo dalla punta diciamo della nostra goccia e andiamo ad attraversare il foro libero della kite tiriamo il filo tiriamo il filo ci ritroveremo così la kite si avvicina di più all'incassonatura poi dobbiamo mettere sul lago una rocai 15 0 una kite sempre in questa posizione così e avviciniamo al lavoro poi ci troveremo quindi in questo modo e mettiamo sul lago una rocai 15 0 poi una mini chevron in questo modo poi 4 rocai 11 0 adesso guardiamo meglio la sequenza quindi una 15 0 una mini chevron e poi avviciniamo anche queste al lavoro andiamo a inserirci nel foro libero della mini chevron così quindi queste quattro rocai 11 0 si andranno a sistemare in questo modo poi dobbiamo prendere invece una altra 15 0 eccola qui e andarci a inserire nello stesso foro della kite dal quale eravamo partiti ma in questo verso così praticamente tutta questa struttura con la mini chevron e la rocai 15 11 si deve andare a sistemare sulla kite tiriamo il filo ci dobbiamo ritrovare così adesso poi dobbiamo attraversare questa rocai 15 0 come abbiamo fatto prima quindi attraversiamo questa rocai 15 0 che troviamo di seguito tiriamo il filo tiriamo bene il filo e se non si avvicina al lavoro dobbiamo tirare tenendo ferme queste rocai qui sulla punta della mini chevron ci andiamo a inserire quindi come abbiamo fatto prima nel foro della kite e anche attraversiamo la rocai 15 0 che abbiamo dopo e attraversiamo anche il foro libero il foro basso della prima kite che avevamo inserito facciamolo contemporaneamente questo passaggio in modo da trovarci diciamo per farlo più semplicemente ci ritroveremo così e adesso ci andiamo a inserire in questa rocai 8 0 che è quella della quale eravamo partiti ma mentre qui il filo esce dal lato sinistro non ci andiamo a inserire dal lato destro e attraversiamo anche la successiva per poi inserirci nella rocai che viene ancora dopo scusate giro un attimo il lavoro e ci inseriamo qui ecco possiamo ritornare nella posizione normale poi attraversiamo anche l'altra rocai che appunto quella che di nuovo sporge verso l'esterno e che ci serve per proseguire il lavoro ecco qua che poi se vogliamo proprio essere precisi è sicuramente la settima rocai a partire dal centro della nostra goccia dalla punta della nostra goccia ci rivediamo tra poco ecco adesso la procedura in effetti si ripete sempre uguale però effettivamente cambierà la posizione perché noi dovremo seguire la curva della goccia io ve la faccio rivedere ancora una volta almeno e poi comunque qui in questo punto la procedura cambia e risalendo la procedura ovviamente risulta un po diversa quindi sostanzialmente questo video durerà un'eternità comunque a parte questo tanto ormai siete abituate io cosa faccio risalgo ripeto dalla settima rocai 8 0 che abbiamo qui sul lato sinistro risalgo nel foro libero della kite ok poi vado a mettere sul lago innanzitutto una rocai 15 0 poi una kite in questa posizione e quindi così poi dobbiamo mettere sul lago vi ricordate una rocai 15 0 ma adesso guardiamo insieme una mini chevron in questo modo poi quattro rocai 11 0 proviamo a fare un pochino diciamo solo farvela vedere in maniera diversa ma è sempre la stessa perché adesso vedete ci ritroviamo così quindi una 15 la mini chevron 4 11 vabbè avviciniamo al lavoro poi ci inseriamo nel foro libero della mini chevron così si formerà questa diciamo cupoletta di rocai sulle mini chevron prendiamo una 15 0 ci andiamo inserire nello stesso foro della kite dal quale eravamo partiti e comunque tiriamo il filo attraversiamo anche la 15 0 che si trova da questo lato tiriamo il filo tiriamo tiriamo e avviciniamo al lavoro questo importante perché se non si avvicina dobbiamo tirare su queste rocai che si trovano sulla mini chevron poi cosa facciamo quindi abbiamo attraversato questa rocai 15 scusate ci ributtiamo nel foro della kite questo qui ma poi anche nella 15 0 che segue come ho fatto prima e anche nel foro basso diciamo della kite precedente quindi questa operazione almeno la facciamo tutta in una volta per facilitare tiriamo il filo e dobbiamo tirare bene tutto come vi dicevo e così ci ritroveremo in questo modo adesso il filo usciva qui sul lato destro della rocai dalla quale eravamo partiti scusate sul lato sinistro della rocai dalla quale eravamo partiti vediamo se si vede bene questo qui e noi ci inseriamo dal lato destro e attraversiamo però anche la rocai successiva che per comodità trovandosi in diagonale si riesce o si dovrebbe riuscire ad attraversare insieme ecco qui tiriamo il filo senza farlo impigliare e ci ritroveremo così così ecco qua adesso dobbiamo però attraversare anche l'altra rocai questa che segue che quella che sporge verso l'esterno nonché nonché la nona quindi a partire dalla punta del della goccia quindi praticamente adesso come vedete sempre in maniera alternata sono diciamo le rocai punto di partenza per l'inserimento delle kite infatti attraversiamo il foro libero della kite e ora dobbiamo ripetere sempre questa stessa procedura per aggiungere l'altra kite ovviamente lo dovremo fare per altre tre volte quindi sei volte in tutto perché nel momento in cui arriveremo sotto la goccia la procedura la dobbiamo vedere insieme io vi lascio diciamo da sole tra virgolette da soli scusate solo per fare le altre tre kite per mettere le altre tre kite però come sapete come vedete nel sulla prima non c'è la mini chevron per un motivo di design che ovviamente voi avete visto perché avete visto già il ciondolo tutto realizzato quindi inserite le altre tre kite con questo sistema e ci vediamo tra un po terminata quindi questa parte lato sinistro del nostro ciondolo ci ritroveremo così come vedete ci sono i punti d'appiglio che vi dicevo quindi la terza rocai la quinta rocai poi la settima la nona undicesima la tredicesima e la quindicesima che però ancora non si vede bene però ecco quello che vi sembrerà forse un po strano proseguendo il lavoro ma non vi dovete lasciare ingannare da questo il punto d'appoggio questi punti di aggancio che noi abbiamo come vi dicevo queste rocai che sporgono verso l'esterno vi sembreranno sempre un po più su diciamo perché appunto come vi dicevo ci sarà la curva però voi non vi lasciate confondere devono essere sempre a numeri dispari le rocai diciamo dispari che si trovano su questo lato infatti questa da cui il filo adesso sta uscendo è la quindicesima però come vi dicevo qui cambia un po la procedura noi una volta che abbiamo inserito la sesta kite vedete di qua una volta che ci troviamo ad uscire dal foro libero di questa sesta kite ovviamente dobbiamo fare la parte sotto che vi dicevo un po diversa e come facciamo dobbiamo mettere sul lago una praticamente rocai 15 0 poi una kite in questo modo adesso vi faccio vedere bene un'altra 15 0 e una kite dovremo mettere questa sequenza qui una 15 una kite dal lato più stretto una 15 una kite dal lato più stretto cosa facciamo saltiamo tre rocai e queste tre che sono poi quelle centrali e ci inseriamo in questa vedete noi stiamo uscendo da questo punto anzi faccio vedere meglio stiamo uscendo a questo punto queste tre le saltiamo ci andiamo a infilare nella rocai da questo lato che poi quella che simmetricamente corrisponde a quella da cui stiamo uscendo tiriamo il filo ci ritroveremo così adesso vediamo insieme ci ritroveremo così e avremo la parte sotto della nostra del nostro ciondolo ma a questo punto ci inseriamo di nuovo nella kite questa qui nella rocai 15 0 nell'altra rocai 15 0 nella kite da cui eravamo partiti e poi dobbiamo tirare il filo a questo punto dobbiamo andarci a inserire vedete allora noi stavamo uscendo da qui e come al solito anzi ruoto per farvi vedere meglio che appunto stavamo uscendo vedete il filo come viene a disporsi non questo è l'altro punto d'appiglio qui da quel dal punto in cui siamo partiti non uscivamo sul lato diciamo un sinistro adesso per come ce l'abbiamo adesso il lavoro e quindi ci inseriamo dal lato destro un po come abbiamo fatto finora attraversiamo tutte queste rocai attraversiamo tutte queste rocai qui andiamo ancora oltre e ci portiamo ad uscire da questa rucai che adesso vediamo insieme possiamo forse rigirare il lavoro tiriamo bene il filo e andiamo ad uscire da questa rocai qui che adesso vi faccio vedere bene quale e perché usciamo di qua ecco andiamo ad uscire da questa rocai che come vedete questa è quella simmetricamente vedete dal quale diciamo viene attaccata alla kite da questo lato quindi qui abbiamo saltato 3 ci siamo agganciati a questa rocai saltiamo questa andiamo ad uscire da questa qua questa qua è sempre quella che sporge verso l'esterno però ovviamente ora ci troviamo dal lato destro quindi la procedura cambia un po ci vediamo tra pochissimo per proseguire ecco quindi come vi dicevo la procedura cambia però il risultato è lo stesso rispetto al lato sinistro ovviamente ma cambia perché noi stiamo risalendo e quindi questo è un po come accadeva negli orecchini after sun non so se vi ricordate in ogni caso adesso cosa facciamo prendiamo una kite ma la dobbiamo appunto utilizzare così inserirci nella punta nella parte più stretta ok così avviciniamo al lavoro poi prendiamo una rocai 15 0 ci andiamo a inserire nella nel foro libero di questa kite che abbiamo sotto tiriamo il filo adesso dobbiamo fare questa parte che manca qui vedete questa parte con la mini chevron quindi mettiamo sul lago una rocai 15 0 una mini chevron adesso vi faccio rivedere la sequenza e le quattro rocai 11 0 riguardiamo bene quindi una 15 0 una mini chevron in questo modo e quattro rocai 11 0 infatti avevo sbagliato ne avevo messe 5 ecco così poi avviciniamo al lavoro e dobbiamo adesso inserirci nel foro libero della mini chevron così usate eccomi nel foro libero della mini chevron poi dobbiamo prendere un'altra 15 0 andarci inserire vedete nel foro dal quale siamo partiti ma nella direzione opposta nel foro della kite così per fare questa specie di punta diciamo sopra la kite tiriamo il filo per bene tiriamo bene perché dobbiamo poi adesso invece inserirci anche nella 15 0 come abbiamo fatto dall'altro lato d'altra parte questo rimane uguale diciamo e poi dobbiamo però tirare bene e poi dobbiamo inserirci nel foro della kite e poi anche nella 15 0 e poi anche nel foro basso diciamo della kite che ci troviamo su in questo caso tiriamo il filo per bene e adesso uscendo da qui vedete qui abbiamo il filo che dalla rocai partiva sul lato sinistro noi ci inseriamo dalla parte destra ci inseriamo anche nella rocai che segue un po come abbiamo fatto anche prima da questo punto di vista tiriamo il filo ma dobbiamo andarci inserire anche nella rocai che sta su e che è quella che sporge verso l'esterno e che allo stesso tempo scusate e che allo stesso tempo è la rocai vedete che viene dopo questa che abbiamo utilizzato come appiglio ce n'è un'altra che saltiamo e da qui invece da quella successiva dobbiamo uscire per rifare questo passaggio quindi io non ve lo rifaccio perché altrimenti davvero video diventa lunghissimo vi scriverò il minuto da cui ripartire ma la procedura è la stessa però mi raccomando ad andare sempre in queste rocai quindi in questa in questa in questa e in questa e poi in questa però dovremo fare diversamente quindi ci rivediamo a tra poco approfitto per farvelo rivedere un'altra volta visto che ci stiamo avvicinando a questo punto che perché cambia un po' anche perché ho visto che è andato un attimo fuori fuoco poco fa il video quindi vedete stiamo uscendo dalla quinta rocai in realtà se la conteggiamo dall'alto ma comunque sempre saltando questa nella successiva rispetto a quella alle a quale ci siamo appigliati come sapete ormai in maniera alternata prendiamo sempre la kite ci inseriamo nella parte più stretta prendiamo sempre una rocai 15 0 quindi kite dalla parte più stretta rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nella parte invece nel foro libero della kite che abbiamo sotto poi quindi dobbiamo tirare il filo e fare tra virgolette la punta con la mini chevron a questa kite l'ultimo inserendo l'ultima mini chevron quindi prendiamo una rocai 15 0 una mini chevron sempre in questo verso le solite quattro rocai 11 0 che adesso arrivano ecco qui avviciniamo al lavoro poi ci andiamo a inserire nel foro libero della mini chevron così poi tiriamo il filo prendiamo però un'altra rocai 15 0 andiamo inserirci nel foro della kite dal quale stiamo uscendo ma nel verso opposto tiriamo il filo ci ritroviamo così usciamo dalla rocai 15 0 che abbiamo qui sulla destra solo solo da quella dobbiamo solo quella dobbiamo attraversare quindi tiriamo bene il filo ci troviamo così ci rituffiamo nella kite e nella 15 0 e poi nel diciamo nel foro anche della kite che troviamo sopra tiriamo il filo questo passaggio vi voglio farvi vedere meglio perché forse prima non si è visto bene adesso tiriamo bene il filo vi ricordo che per tirare bene dobbiamo tirare anche le rocai che sono sopra e allora vi stavo vi volevo far vedere meglio questa parte e cioè qui il filo esce vedete rispetto a questa rocai il filo lo troviamo sulla sinistra noi ci dobbiamo inserire ecco vedete va fuori fuoco per chi mi avvicina troppo evidentemente ecco volevo faccio vedere meglio questo è il filo che esce dal lato sinistro non ci dobbiamo inserire dal destro e poi anche nella rocai successiva spero che adesso si sia visto meglio e tiro il filo è così però dobbiamo inserirci anche nella rocai che sporge che quella diciamo la terza se contiamo dall'alto rispetto al centro tiriamo il filo dicevo tiriamo il filo è però prima di inserirci nel foro libero della kite dobbiamo mettere una rocai 15 0 perché questa lavorazione è diciamo simmetrica rispetto all'altro lato in questo momento dobbiamo aggiungere la rocai 15 0 tiriamo il filo adesso facciamo la parte superiore di questa kite però senza aggiungere la minicela perché come abbiamo visto insomma simmetricamente rispetto all'altro lato prendiamo quindi una rocai scusate 15 4 rocai 11 e una rocai 15 adesso vi faccio vedere meglio ecco qua questa sequenza una 15 4 11 una 15 e ci andiamo a inserire nello stesso foro dal quale stiamo uscendo ma dall'altro verso tiriamo bene il filo ci andiamo a inserire nella rocai 15 0 solo in questa tiriamo bene il filo andiamo inserirci adesso direttamente nel foro della kite così tiriamo il filo e adesso ci andiamo a inserire senza aggiungere nulla nella rocai dalla quale stiamo uscendo ma qui il filo esce da sinistra non ci inseriamo da destra così ci inseriamo anche nella successiva e tiriamo il filo ci troviamo così adesso attraversiamo anche questa rocai e ci vediamo tra un attimo ora attraversiamo anche questa rocai di punta quella centrale sulla punta della nostra goccia tiriamo il filo senza farlo impigliare qui tiriamo il filo se ci riusciamo ecco qui ecco qui adesso attraversiamo queste due rocai di questo picco in questo modo attraversiamo anche questa rocai che si trova sulla destra e finalmente facciamo il giro intorno diciamo va bene e allora cosa facciamo dobbiamo mettere sul lago ecco di qua i mezzi cristalli che non abbiamo ancora utilizzato quindi prendiamo un mezzo cristallo da 3 mm poi però eccolo è saltato aggiungiamo una rocai 15 0 quindi mettiamo un mezzo cristallo una rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nelle prime due rocai 11 0 che abbiamo qui sulla kite ecco qua queste prime due faccio vedere meglio così ci andiamo inserire tiriamo il filo ci ritroveremo così poi prendiamo una rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nelle due rocai 11 0 che restano su questa kite in maniera tale da creare una punta poi dobbiamo mettere sul lago un rocai 15 0 e un mezzo cristallo da 3 mm e andiamo a inserirci sempre nelle prime due rocai 11 0 che abbiamo qui sulla sulla mini chevron e poi prendiamo una rocai 15 0 e ci inseriamo nelle due rocai 11 0 che restano che abbiamo sulla mini chevron anche qui creando una punta così inizierà a distendersi un pochino il bordo della nostra lavorazione poi prendiamo un'altra rocai 15 0 e un mezzo cristallo da 3 mm così e ci andiamo a inserire nelle prime due rocai che stanno sulla mini chevron tiriamo il filo ci ritroveremo così adesso vedrete che tutto si sistemerà poi prendiamo una rocai 15 0 per fare la punta e ci inseriamo negli altri due rocai 11 adesso ancora per una volta prendiamo una rocai 15 e poi un mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo nelle prime due rocai che si trovano sulla mini chevron poi prendiamo una rocai 15 e ci inseriamo nelle altre due rocai che si trovano sulla mini chevron e adesso invece in questi spazi che restano mettiamo solo il mezzo cristallo quindi prendiamo il mezzo cristallo da 3 mm ci inseriamo sempre nelle prime due rocai che si trovano sulla mini chevron quindi questo caso non aggiungiamo la rocai 15 così prendiamo un'altra rocai 15 mai quella per fare la punta sulle sulle rocai 11 e ci inseriamo nelle due le che restano poi prendiamo un mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo nelle rocai che si trovano sulla mini chevron prendiamo un altro un'altra rocai 15 ci inseriamo qui nelle due rocai che restano sulla mini chevron ci vediamo tra pochissimo come vedete abbiamo sistemato questo lato del nostro ciondolo quindi adesso cosa facciamo dobbiamo proseguire attraversando in pratica alla mini chevron ma anche la rocai 11 0 che si trova subito dopo così chiediamo anche le perline insomma per la comodità nostra tiriamo il filo e adesso mettiamo sul lago praticamente 4 rocai 15 0 4 rocai 15 0 ci andiamo a inserire nella rocai 15 0 che si trova tra le kite tiriamo il filo ci troveremo così saliamo solo in una di queste 4 rocai 15 0 con calma così tiriamo il filo adesso dobbiamo mettere sul lago 3 rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nel foro libero di questa kite di punta tiriamo il filo ci ritroveremo così poi prendiamo 4 rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nella punto foro della kite nello stesso dal quale stiamo uscendo ma nel verso opposto per fare diciamo una punta anche qui poi adesso diciamo simmetricamente dobbiamo mettere sul lago 4 rocai 15 0 perché poi comunque una la traverseremo di nuovo intanto con queste 4 rocai 15 0 ci andiamo a inserire in questa rocai 15 0 che si trova tra le kite poi risaliamo in questo punto quindi nella rocai che si trova qui solo in una di queste appena giunte e poi mettiamo sul lago 3 rocai 15 0 ecco le tre rocai 15 0 perché una l'abbiamo già sul lavoro e ci andiamo a inserire in questa rocai che sta sotto la mini scevron nella rocai 15 che sta sotto la mini scevron tiriamo il filo ci ritroveremo così ci ritroveremo così con questa punta in questo modo che poi però andremo a sistemare attraversiamo come vedete abbiamo attraversato già la mini scevron e la prima rocai 11 attraversiamo l'altra rocai 11 prendiamo una 15 0 che ci serve sempre per fare la punta ci inseriamo nelle due rocai 11 successive adesso prendiamo un mezzo cristallo e ci inseriamo nelle prime due rocai che si trovano sulla mini scevron e poi mettiamo una rocai 15 0 per fare la punta e ci inseriamo nelle due rocai che seguono adesso mettiamo di nuovo un mezzo cristallo da solo e ci andiamo a inserire nelle prime due rocai che si trovano sulla mini scevron ovviamente stiamo facendo un percorso simmetrico rispetto all'altro lato scusate proprio per rispettare la simmetria rispetto all'altro lato a questo punto dobbiamo mettere vedete questi erano i due mezzi cristalli da soli invece qui abbiamo messo il mezzo cristallo ma anche una 15 0 e così facciamo prendiamo appunto un mezzo cristallo e una 15 0 ecco ci andiamo a inserire nelle prime due rocai sempre che stanno sulla mini scevron poi invece qui dobbiamo prendere una rocai 15 0 e inserirci nelle altre due rocai che si trovano sulla mini scevron tiriamo il filo ancora qui avevamo aggiunto il mezzo cristallo e la rocai 15 0 che prendiamo così ci andiamo a inserire sempre qui facciamo sempre lo stesso stessa procedura non vi preoccupate se adesso sembra storto ma poi si sistema così poi facciamo la punta mettendo la 15 0 in questo punto qui ci infiliamo negli altri due rocai 11 0 ci ritroviamo in questo modo dobbiamo aggiungere adesso invece un mezzo cristallo e una rocai 11 così e ci andiamo eccolo qua mezzo cristallo e rocai 11 ci andiamo a inserire sempre nelle prime due rocai che si trovano in questo caso direttamente sulla kite tiriamo il filo prendiamo un'altra rocai 15 per fare la punta qui sopra entriamo nelle due rocai successive 11 0 e poi dobbiamo inserire questa volta dobbiamo inserire prima la rocai 15 e poi il mezzo cristallo e quindi con questa sequenza ci andiamo a inserire in questo punto vedete che è la rocai 8 0 di questo picco che avevamo fatto in cima e che appunto si trova sul lato destro ci inseriamo così ci inseriamo anche in questa rocai proprio che si trova sulla punta possiamo girare il lavoro e adesso inseriamo 2 rocai 11 0 poi dobbiamo inserire il gancio portaciondolo nel caso in cui lo abbiate anche voi così dovete inserirlo nella lavorazione poi prendiamo altre due rocai 11 0 e con questa sequenza ci andiamo a inserire sempre nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo ma dal verso opposto e effettuiamo anche un giro di rinforzo di questo cappietto a tra poco allora adesso ho fatto due giri di rinforzo del cappietto perché effettivamente il gancio è abbastanza importante adesso dobbiamo ripassare in tutte le perline che incontriamo lungo il cammino per come le troviamo volendo possiamo saltare la 15 0 di punta ogni volta così si formano ancora meglio le punte arriviamo qui e poi proseguiamo insieme perché dobbiamo fare delle aggiunte in questa parte qui a tra poco ecco fatto il ripasso insomma attraverso tutte queste rocai del bordo in pratica arriviamo in questo punto e ci andiamo a inserire nella mini chevron e poi anche nella rocai 15 0 che abbiamo sotto qui poi attraversiamo anche la prima rocai che troviamo subito dopo questa e adesso aggiungiamo un mezzo cristallo e ci andiamo a inserire nella scusate se giro per praticità nella rocai 15 0 che precede le rocai 11 qui sulla come vedete come vedete kite di punta sotto attraversiamo anche le due rocai 11 0 che troviamo e poi dobbiamo tirare il filo a questo punto prendiamo una rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nelle altre due rocai che troviamo sulla sinistra 11 0 poi nella 15 che troviamo subito dopo ecco qui dobbiamo tirare il filo e quindi faremo la punta anche su questa kite che abbiamo qui sotto prendiamo un altro mezzo cristallo sempre per fare un lavoro simmetrico e ci andiamo a inserire quindi in questa rocai 15 0 che è praticamente l'ultima di questa serie e quella che precede quella che invece si trova proprio sotto la mini chevron quindi ci inseriamo qui intanto tiriamo il filo e avremo quindi mezzi cristalli al lato della kite centrale sotto poi risaliamo qui nella rocai 15 0 che si trova proprio sotto la mini chevron poi attraversiamo anche la 11 0 perché verrà abbastanza naturale farlo tiriamo il filo tiriamo il filo e ci ritroviamo così adesso tiriamo bene il filo senza per osagerare e vedete questi mezzi cristalli si sistemano in questo punto e poi adesso proseguiamo ancora ripassare la lavorazione fino ad arrivare in questo punto qui nelle prime due rocai che si trovano sopra la kite quella che non ha la mini share comunque ci vediamo tra pochissimo come vi dicevo ci portiamo ad uscire da questa rocai qui una volta effettuato il rinforzo questa che vedete precede la rocai e 15 di punta qui su questa kite senza la mini share ora però che facciamo giriamo il lavoro e quindi iniziamo il rinforzo sul retro mettiamo sul lago 4 rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nella rocai 8 0 che si trova qui nella rocai 8 0 praticamente questa questa che si trova a destra della rocai centrale di punta vedete che vi sto indicando con la punta dell'ago quindi ci inseriamo qui in questa rocai 8 0 tiriamo il filo poi prendiamo due rocai 11 0 e ci andiamo a inserire proprio nella rocai 8 0 che si trova qui su in pratica quella che diciamo sta appena sotto il cappietto poi prendiamo altre due rocai 11 0 e ci inseriamo nella 8 0 simmetrica da questa parte quindi quella che si trova a sinistra della rocai centrale ecco qui tiriamo il filo e ci ritroveremo così ecco tiriamo bene il filo a questo punto prendiamo 4 di nuovo 4 rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nelle due rocai simmetricamente vi ricordate qui eravamo partiti dai due rocai 11 0 al lato della 15 e qui ci andiamo a inserire anche appunto in queste due rocai che si trovano sulla sinistra della punti di questa rocai di punta e proseguiamo nel lavoro anche tiriamo il filo vediamo come veniamo a trovarci non così ma così dobbiamo farlo posizionare in questo modo ecco vedete questa questa linea con quattro rocai poi queste due due poi di nuovo quattro e andiamo a infilarci in quel punto che vi ho fatto vedere tiriamo bene il filo proseguiamo nel lavoro quindi attraversiamo il mezzo cristallo e due rocai che si trovano sulla mini chevron ma saltando la 15 ci inseriamo anche negli altri due rocai e facciamo un passaggio che adesso io vi spiegherò ma che poi dovrete ripetere fino a un certo punto che poi vediamo insieme quindi innanzitutto andiamo ad uscire dalla seconda diciamo rocai 11 0 che troviamo su questo lato vedete qui abbiamo la punta tutta formata dalle 11 0 noi usciamo dalla seconda e quindi comunque dalla quarta in totale delle rocai 11 0 e mettiamo sul lago 7 rocai 11 0 mettiamo 7 rocai 11 0 ci andiamo a inserire attenzione in questo punto che è praticamente vi faccio vedere bene il punto c'è la rocai che sta alla base della primissima kite proprio in corrispondenza della punta nella prima kite che poi se volessimo effettuare proprio il conteggio è la sesta a partire dalla rocai di punta che però adesso diventa un po confuso vedere è questa qui questa rocai qui che sporge un po verso l'esterno allo stesso tempo si trova proprio in corrispondenza della punta della kite qui ci andiamo inserire qui e poi tiriamo il filo poi inseriamo una rocai 11 0 ci andiamo a inserire a partire dalla seconda vedete nella seconda terza e quarta rocai quindi ne attraversiamo in tutto tre però ricordiamoci che abbiamo sul lago l'altra locai 11 tirando il filo si andranno a disporre in questo modo così poi prendiamo altre tre rocai 11 0 e ci andiamo a inserire qui nella praticamente nella rocai 11 0 queste due che si trovano a destra della parte centrale così è un po scomodo ma non vi preoccupate che si riesce attraversiamo questa praticamente è una specie di ripasso anche che facciamo quindi tiriamo il filo adesso si chiarirà meglio la situazione si viene a formare questa specie diciamo di y non con un po di fantasia dobbiamo tirare bene il filo poi attraversare di nuovo anche queste due rocai è però proseguire ancora oltre fino ad arrivare al punto in cui questo passaggio deve essere ripetuto e io poi vi metterò il minuto da cui ricominciare sapete che lo faccio e poi ripassiamo quindi andiamo ad uscire vi faccio vedere il punto in cui ricominciare questa lavorazione questo sostegno sul retro tiriamo il filo attraversiamo saltiamo la 15 0 solo perché sarebbe anche problematico attraversarla sappiamo che più al foro più stretto quindi inutile coinvolgerla in questo processo quindi una volta che siamo usciti di nuovo da questo punto che è la quarta diciamo di queste quattro rocai 11 0 che troviamo qui sopra dobbiamo ripetere quindi se rendo le sette rocai come abbiamo fatto qui e poi inserendo una e attraversando solo tre inserendo tre e completando il passaggio nell'altro verso ora però qual è il punto in cui dobbiamo andarci a collegare sarà quello che praticamente non questa rocai che segue quella coinvolta no nel nostro sostegno non questa ma quella successiva quindi qui dobbiamo sempre saltare queste rocai e andare in queste in maniera quindi alternata in questa in questa in questa e in questa finiamo queste parti qui praticamente dovrete fare questi sostegni per altre quattro volte e però poi per fare il sostegno proprio alla punta ci vediamo per farlo insieme a tra poco ecco riguardiamo insieme allora i passaggi di sostegno che abbiamo effettuato saranno in tutto cinque i punti da cui diciamo partono questi sostegni sono questi che vedete quindi a partire dalla sesta rocai rispetto a quella centrale il primo e poi maniera alternata agli altri per cinque volte in tutto adesso ci portiamo ad uscire da questo punto qui che appunto l'ultima rocai che si trova sulla mini chevron qui in questo punto ed effettivamente possiamo girare il lavoro e mettere sul lago 3 rocai e 15 0 e andiamo a inserirci con queste 3 rocai 15 0 nel mezzo cristallo che abbiamo qui tiriamo il filo e ci troveremo così adesso andiamo a inserirci nella rocai 15 0 che segue il mezzo cristallo e anche in queste rocai successive saltiamo la rocai di punta e andiamo nelle due successive così in queste due adesso ci rispostiamo sul retro perché appunto facciamo un sostegno che però è uguale a quelli che abbiamo fatto fino ad ora quindi 7 rocai 11 0 queste sono 6 ne manca 17 rocai 15 0 ci andiamo a inserire scusate 11 0 ci andiamo inserire in questo caso nella rocai proprio questa qui centrale che abbiamo in corrispondenza della kite centrale ecco qua tiriamo il filo poi prendiamo una rocai 11 0 ci inseriamo a partire dalla seconda rocai nelle tre successive come abbiamo fatto gli altri passaggi poi prendiamo 3 rocai 11 0 e ci andiamo a inserire con queste 3 rocai 11 0 nelle rocai che si trovano queste 11 0 che abbiamo sulla punta della kite io adesso ne ho attraversato solo una devo attraversare anche questa anche queste due saltando la 15 poi rigiriamo il lavoro attraversiamo la 15 0 attraversiamo il mezzo cristallo e poi simmetricamente rispetto all'altro lato prendiamo le 3 15 0 eccole qua e ci inseriamo qui su nelle due rocai che seguono che stanno sulla mini chevron poi saltiamo questa andrà a sistemarsi così vedete si sistema questa parte poi saltiamo la rocai centrale della punta qui sulla mini chevron ritorniamo sul retro attraversiamo gli altri due rocai 11 0 e da questo punto siamo pronti a ripartire con i sostegni i sostegni che appunto dovremo fare uguali a questi mettendo sempre le 7 rocai 11 0 però dobbiamo fare attenzione perché non dobbiamo agganciarci a questa scusate dobbiamo agganciarci a questa rocai qui ecco scusatemi dobbiamo agganciarci proprio a questa rocai quindi effettivamente facciamoli insieme il primo mettiamo 7 rocai 11 0 sul 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 lago e ci andiamo a inserire in questo punto e poi dobbiamo prendere una rocai 11 0 e risalire a partire dalla seconda attraversando tre rocai e poi mettere tre rocai sul lago e andarci a inserire qui nelle due rocai 11 0 che troviamo qui formando il sostegno io ho attraversato solo una adesso dobbiamo attraversare anche questa queste altre due proseguire tutti i sostegni gli altri quattro sostegni fino ad arrivare qui e ci rivediamo tra un po ecco come vedete ho fatto i sostegni sul retro anche da questo lato mettendomi agganciandomi negli stessi punti simmetricamente che avevo utilizzato dall'altro lato vorrei fare solo un'ultima cosa e cioè in questo punto mi è rimasto davvero pochissimo filo in questo punto metterei una rocai 15 0 vedete sto uscendo da queste due rocai che si trovano ai lati che avevamo aggiunto poco fa e con la 15 0 mi andrei a inserire proprio nel cappietto per renderlo più stabile e poi passando quindi proprio attraverso il cappietto e l'altra rocai ridiscendere con un'altra 15 0 ma è davvero l'ultima cosa che facciamo perché appunto già è stato un lavoro abbastanza lungo e nulla quindi dopo non ci resta che fermarci in un punto possibilmente delle 11 0 così più comodo mettere scusate mettere poi fare due nodi e proseguire ancora nel lavoro e tagliare il filo io mi inserisco quindi con un'altra 15 0 qui vedete così si distende si blocca meglio il cappietto poi ripeto proseguiamo ancora nel lavoro facciamo due nodi andiamo ancora avanti nel lavoro possiamo tagliare il filo così farò io qui dietro nei sostegni a tra poco ecco questo il ciondolo explore terminato ovviamente spero che vi piaccia vi ricordo che questa è la variante any londonderry ma ci sono altre quattro varianti che dovrebbero essere ancora disponibili sul sito semplici bijou vi lascio di seguito anche le slide per vedere le altre varianti di colore io mi auguro che voi vogliate provare a realizzarlo e poi nel caso in cui lo facciate ricordate di taggare me o semplici bijou perché ci fa tanto piacere vedere le versioni sia quelle vostre una libera interpretazione sia quelle dei kit vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento al prossimo video grazie